a parte invece Pirone, il tiro alla rete, si tracita fasta in vantaggio con Valentino Pirone con la terza marcatura stagionale di Gianmarco Magrelli, l'uomo dall'inserimento perfetto Pirone, va in doppia cifra, Valentino Pirone, show del Procida, ancora Pirone, scatenato quest'oggi, un gol alla Frank Ribery Chi è rientrato dopo l'esclusione di domenica scorsa, la palla per Pirone, in area di rigore, Pirone, lo scavetto di Valentino Pirone Procida in vantaggio con la rete di Valentino Pirone al secondo minuto della ripresa Donico Stoiola contro Di Grezia, affrontato da Palumbo, il cross al centro di Donico Stoiola, Pirone, per Rotte e poi Pirone